Per il Campobasso lunedì di lavoro in vista della Re Canatese. I 14 che hanno preso parte alla gara di sabato lavorano in piscina normale, seduta atletica per il resto del gruppo. Per Farina tre partite in una settimana, la prima già giocata con un grande spendio di energie e soprattutto a livello nervoso. Non sono da escludere avvicendamenti dal primo minuto anche per permettere a qualcuno di tirare il fiato mercoledì prossimo. Lo stesso Pani è sì in grande crescita ma non ha gambe disponibili per 90 minuti. Possibile pure che in difesa uno dei due esterni venga inizialmente accomodato in panchina. Al tecnico rosso-blu la scelta certo è che verrà riproposto l'espediente di bucare la Re Canatese con un uomo aggiunto sul secondo palo per la lentezza dei due centrali marchigiani. Discorso valso per Minadeo che nella partita di dieci giorni fa costruì due palle e gol in pochi minuti. Re Canatese-Campobasso è stata interrotta al 24esimo del primo tempo dello scorso 12 ottobre e poi sospesa 18 minuti più tardi per un malore occorso a Monti in panchina. Tornando al pirotecnico pareggio di sabato scorso sentiamo i pareri di Farina e Ronci. È una partita che noi meritavamo di perderla sotto l'aspetto tecnico-tattico. Abbondamentalmente no, già ho detto che meritavamo di perderla, già è troppo, ho fatto autocritica, però il problema è che questa squadra a cuore, a cuore, a voglia. Abbiamo delle soluzioni di emergenza alla fine con le quattro punte in campo e cerchiamo di andare in una situazione di emergenza. Mettiamo queste palle nell'area per cercare qualche cosa e il lavoro che facciamo su questo ci ha dato ragione ancora una volta. Perché è difficile marcare quattro attaccati, però devo essere sincero, noi venivamo da una settimana di passione. Io penso che finire l'incontro per una squadra nostra con 7-8 giocatori con i crampi non è mai capitato. Voi vedete che negli ultimi... E all'inizio del secondo tempo. Poi abbiamo Giorgio Palermo che ha avuto problemi allo stomaco stanotte all'inizio di un virus. Abbiamo avuto panica ma che è sul campo, Scudieri che aveva problemi. Chiedo solo se a livello tattico esiste ancora una certa spaccatura tra i riparti, tra centrocampo e attacco. Noi venivamo da tre partite giocate senza spaccatura, oggi è esistita. Oggi è esistita perché ho dovuto sostituire Giorgio e nel momento in cui togli Palermo e metti Albino metti un giocatore, una mezzala invece di un mediano. Ma tante volte la spaccatura la crei pure tu per cercare di ribaltare il risultato. È stato troppo bravo il portiere del campo basso che sembrava davvero imperforabile quest'oggi. Siamo arrivati 3 contro 1, pure se c'era Buffon tu devi fare 4 o 5 gol oggi. Non parlare di rigore sbagliato perché ti gira tutto storto. Il calcio è così, arrivi 4 o 5 volte davanti al portiere 2-3 contro 1 e non riesci a far gol e poi è giusto pure che il calcio ha questo risvolto qua. Il calcio è così, è sempre stato così da sempre. Oggi è toccato a noi subire questa grande beffa. Intanto sono partite oggi le prenotazioni per i pullman prenotazioni per i pullman dalla società per assistere alla gara di Recanati dalle 18 alle 19.30 presso la sede dell'associazione Noi Siamo il Campobasso segreteria dello stadio sarà possibile prenotarsi. Basket di Serie B sconfitte le due molisane di Cadetteria, Isernia e Venafro. Il Bisceie ha allungato a tre le vittorie consecutive. Il Francavilla ha conquistato il primo successo di stagione. Le conseguenze le hanno pagate le due molisane che sono ancora ferme a quota 0 dopo 120 minuti di gioco. L'Isernia di coach cardinale ha affrontato la trasferta di Bisceie dove ha perso 85 a 66. Il Venafro ha ospitato il Francavilla. Gli ospiti hanno aggiunto i due punti grazie al definitivo 68 a 71. Per i ragazzi di coach Arturo Mascio la sconfitta brucia e non poco considerato che i molisani sono sempre stati in vantaggio nei primi tre quarti. 23-20, 40-36, 57-53. Molisani non in grado di incrementare il vantaggio, anzi a 30 secondi dalla fine sono sotto e il tabellone luminoso recitava 68 a 70 con il Venafro che ha in mano la palla per impattare o addirittura sorpassare. Ma il ferro spegne le speranze. A 20 centesimi dalla fine Marchini lunetta per il tiro libero che sigla il risultato finale sul 68 a 71 facendo esplodere di gioia gli ospiti e regalando al Venafro il terzo K.O. consecutivo ancora una volta per pochi punti. Più netto il K.O. subito in casa del Bisceie per l'Isernia. Anche questa domenica i ragazzi di coach Cardinale hanno offerto un buon gioco soprattutto nei primi due quarti dove sono riusciti a mettere a segno prima 18 e poi 22 punti. Le due squadre sono andate a lungo riposo con un distacco di un solo punto 41 a 40 per i padroni di casa. Nel terzo e quarto periodo sono saliti in cattedra i ragazzi di Scocci Marro che hanno chiuso il match sull'85 a 66. Domenica prossima ancora trasferta per l'Isernia che viaggerà alla volta di Catanzaro mentre il Venafro ospiterà il Vasto.